Giuseppe ecco qua il car tablet per la tua Hyundai siamo in Apple CarPlay poi usciamo e andiamo direttamente nella sezione Android qui siamo sulla home prima home seconda home ovviamente avrai anche il DAB come mi hai richiesto quindi Apple CarPlay DAB DSP e recupero funzioni macchine adesso apriamo un attimo Maps ecco qui stiamo su Maps Viale Palmiro Togliatti 600 eccoci qua più tardi ti do la traccia vita ti ringrazio e poi ti ringrazio Grazie a tutti.